Dato che il Comune di Foggibonsi è fermo, vive una condizione di stagnazione per quello che riguarda la condizione di sviluppo di investimenti pubblici e privati, noi dovremo fare un'azione per rilanciare a Foggibonsi, rendere possibile e rendere oggettivamente realizzabili degli investimenti, investimenti nell'area urbanistica, investimenti complessivi che riguardano lo sviluppo della città, quindi il potenziamento degli uffici pubblici, la semplificazione delle procedure per far sì che Foggibonsi torni ad essere attrattiva per gli sviluppi dei privati, privati sia nell'ambito dell'edilizio sia nell'ambito dello sviluppo delle strutture produttive. L'altro nostro punto importante è la coesione sociale, quindi il potenziamento dei servizi, l'attenzione a quelli che sono i servizi sanitari territoriali, la piena attuazione della riforma dei servizi sanitari territoriali e il potenziamento, siamo in una condizione tale ormai per cui anche il nostro ospedale per problemi di carattere generale che riguardano il potenziamento necessario a questo punto del servizio sanitario nazionale indispensabile, però ha bisogno anche il nostro ospedale di maggiori risorse umane, di medici, infermieri, osse. Siamo arrivati, siamo vicini a un punto di non ritorno. Altro punto importante per noi, fondamentale, è la partecipazione. Noi vogliamo riaprire e riattivare le consulte di quartiere, ma anche creare degli osservatori specifici, sicuramente sulle attività produttive, sul commercio, sulla funzione turistica e anche sui servizi sociali. Ripartire dal basso e quindi di ridare la voce. Siamo una lista civica, siamo nati per ridare voce ai cittadini. Noi abbiamo, che ci sostiene, un unico grande partito, il partito dei Foggibonsesi. Il nostro partito sono tutti i cittadini di Foggibonsi.